un capotreno aggredito a Bologna da un immigrato per aver chiesto il biglietto. Un atto brutale, un altro caso che riaccende il dibattito sull'immigrazione e la sicurezza. Ma c'è chi sembra giustificare tutto questo. Restate fino alla fine per scoprire come si sono difesi certi ospiti in diretta tv. Paolo del Debbio, il pubblico ammutolito, è un commento che ha scatenato polemiche ovunque. Ma la vera domanda è, siamo sicuri che ci stiamo concentrando sui problemi giusti? Se anche tu pensi che sia il momento di parlare chiaro su questi temi, iscriviti al canale e attiva la campanella. Qui trovi le notizie che nessuno ti racconta. A Bologna, l'ennesimo episodio di violenza, un capotreno è stato aggredito dopo aver chiesto il biglietto. Stando alle prime ricostruzioni, l'aggressore, un immigrato senza titolo di viaggio, avrebbe colpito l'uomo fino a rompergli i denti. La domanda è, come siamo arrivati a questo punto? Durante un dibattito televisivo, Marta Collot ha fatto un commento che ha lasciato Paolo del Debbio e il pubblico senza parole. La sua posizione? I problemi di sicurezza non derivano dall'immigrazione, ma dalle disuguaglianze sociali e dalla precarietà esistenziale. Ma davvero possiamo ridurre tutto a un problema di povertà? Perché non possiamo riconoscere che l'immigrazione irregolare alimenta insicurezza? I dati parlano chiaro. In alcune carceri italiane, il 70% dei detenuti è straniero. È masochismo pensare che tutto si risolva regolarizzando chi entra illegalmente. E tu, cosa ne pensi? La sicurezza è davvero solo una questione sociale o è necessario affrontare l'immigrazione irregolare in modo più deciso? Scrivilo nei commenti. Se anche tu vuoi sostenere una voce libera che dice quello che in tv non ti raccontano, lascia un like e iscriviti al canale. Abbiamo bisogno di te per fare la differenza. La verità è che i cittadini come il capotreno di Bologna meritano sicurezza e rispetto. Per garantire questo, dobbiamo affrontare la realtà. Immigrazione irregolare e delinquenza vanno di pari passo troppo spesso. Servono soluzioni, non giustificazioni.